Buon pomeriggio, nuova edizione del nostro giornale, ma subito la sigla e i titoli. E' fuori pericolo la bimba di due anni giunta ieri sera all'ospedale di Cosenza dopo aver ingerito cannabis. La piccola è ancora ricoverata in rianimazione ai domiciliari, il padre. Aggressione in corsia dopo lo che del Consiglio dei Ministri al decreto che inasprisce le pene e prevede l'arresto in plagranza di ferita, il giudizio dei sanitari. Bene il decreto, ma attendiamo. La proroga del commissariamento del Consiglio Comunale di Renda da parte del governo mette in stand by la campagna elettorale. Bisognerà attendere ancora sei mesi, nel frattempo a guidare l'amministrazione sarà la triede commissariale e sullo sfondo il progetto per la città unica. Nonostante il trend positivo che si registra a livello nazionale, in Calabria l'occupazione non cresce, i numeri sono ancora massi. Atto vandalico ai danni del Consorzio di Bonifica del Crotonese. È danneggiata una condotta idrica, niente acqua per i cittadini di Isola Caporizzuto. Ancora buon pomeriggio dalla redazione del TGTN, dunque la cronaca in apertura di questa edizione del nostro giornale. Restano stabili le condizioni della bambina di 20 mesi di Cosenza che ha ingerito accidentalmente cannabis. Intanto proseguono le indagini della questura Abruzia. Sono stabili le condizioni della bambina di 20 mesi ricoverata nell'ospedale dell'annunziata di Cosenza dopo aver ingerito della cannabis. La piccola è in coma farmacologico. I sanitari hanno eseguito il controllo con elettroncefalogramma e i medici attendono il referto definitivo degli esami tossicologici a cui è stata sottoposta la bambina. La piccola è stata portata nel pronto soccorso dell'annunziata dai genitori, preoccupati perché non reagiva e né rispondeva agli stimoli esterni. La corsa in ospedale per capire cosa stesse succedendo alla loro figlia, in condizioni disperate, la paura che attanaglia, che non fa respirare. Poi l'arrivo al pronto soccorso, dove i sanitari hanno preso in cura la bimba di 20 mesi per comprendere cosa le stesse accadendo. Controlli e analisi in una corsa contro il tempo. L'arcano svelato dalle prime analisi tossicologiche a cui è stata sottoposta la piccola, in coma farmacologico. Nelle urine i medici hanno riscontrato la presenza di oppiacei, probabilmente cannabis, che la bambina avrebbe ingerito accidentalmente. Avviate subito le indagini dalla squadra mobile Bruzia. Gli agenti hanno perquisito la casa dei genitori nel quartiere popolare di Serra Spiga. L'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari nei confronti del padre della piccola e denunciato a piede libero la madre. È stato inoltre disposto all'allontanamento degli altri figli dalla coppia, che probabilmente sono stati presi in cura dagli assistenti sociali. La bambina non sarebbe in pericolo di vita, ma dovrà rimanere in stretta osservazione dei sanitari che si sono presi cura di lei. Le indagini degli uomini della squadra mobile della questura di Cosenza proseguono per accettare la dinamica dell'accaduto. E torniamo ad occuparci delle aggressioni in corsia. Beh, dopo l'ok del Consiglio dei Ministri al decreto che inasprisce le pene e prevede l'arresto in flagranza di ferita, oggi abbiamo sentito il parere dei sanitari. Sentiamo. Finiranno le aggressioni e gli atti violenti perpetrati ai danni del personale medico e paramedico negli ospedali? Il governo se lo augura dopo il varo delle misure che prevedono pene fino a 5 anni all'arresto in flagranza entro 48 ore. Il decreto si inserisce in un clima non più sostenibile che si respira nei nosocomi. L'elenco delle aggressioni fisiche e verbali, che si sono registrate negli ultimi mesi anche in Calabria, Reggio, Cosenza, Crotone, Vibola, Mezzia, Paolo, Acetraro, Rossano, è assai lungo e a nulla. Fino ad oggi sono vasti gli appelli dei vari direttori generali e commissari. Adesso con l'intervento del governo ci si augura che il fenomeno possa cessare. Ma qual è il giudizio dei sanitari? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cosenza, Eugenio Corcione, e al riconfermato presidente provinciale dell'Ordine degli Infermieri, Fausto Sposato. Sarei un attimo più cauto nel giudizio perché in Italia sappiamo che i decreti entrano in una maniera e ne escono in un'altra. Quindi vorrei capire quando sarà convertito in legge, in che termini sarà convertito in legge e quali saranno le modifiche e le integrazioni. Perché tante sono le cose ancora da chiarire, ma in particolare questo famoso arresto di ferito, flagranza di ferita, che è un fatto assolutamente importante, effettivamente incisivo, bisogna vedere chi attiva la polizia, in che termini si attivano le forze dell'Ordine, chi li deve attivare, quando è che scatta quest'obbligo da parte loro dell'arresto in differita. Quindi saremo a vedere, certamente una segnale di attenzione del governo c'è stata. Ci sono elementi importanti come l'articolo 332 bis che prevede l'arresto in flagranza di reato. È quello che stiamo chiedendo da tempo perché oggettivamente il fenomeno dell'aggressione è un fenomeno che non ha mai smesso di esistere sostanzialmente. Per cui ben venga questa novità, vedremo gli sviluppi su questo decreto, vediamo se ci saranno delle altre modifiche. Intanto accogliamo favorevolmente quanto fatto dal governo in questa direzione, a tutela degli operatori sanitari che in quel momento svolgono una funzione molto molto importante e che è quella di ottemperare quelli che sono i bisogni di tutte le persone. Le vicende adesso che riguardano il Comune di Rende, bene la proroga del commissariamento del Consiglio Comunale di Rende da parte del governo mette in stand by la campagna elettorale. Bisognerà attendere ancora sei mesi. Nel frattempo a guidare l'amministrazione sarà la triede commissariale. Sullo sfondo c'è il progetto della città unica. La campagna elettorale a Rende, messa in piedi con tutta fretta, dovrà pazientare per altri sei mesi, visto che, come del resto era ampiamente previsto, il ministro Piantedosi lette con attenzione le determinazioni scaturite alla riunione dell'Ordine per la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura alla presenza, oltre che di rappresentanti alle forze dell'Ordine e della Magistratura della Presidente della Provincia Succurre e del Sindaco di Cosenza Caruso, ha ritenuto opportuno che non ci fossero le condizioni necessarie per aprire alla competizione elettorale, ma che altresì l'amministrazione rendese avesse ancora la necessità di essere guidata dalla triede commissariale. A questo punto sorge spontaneo chiedersi che cosa è scritto nella relazione di non conosciuto oltre alle notizie che hanno determinato l'arrivo dei commissari. Al momento nulla è trapelato se non la nota diffusa nella giornata di ieri al termine della riunione del Consiglio dei Ministri che, come è facile immaginare, ha provocato reazioni e malumori nell'ambiente politico della città del Campagnano. Atteso che proprio ieri si è dato inizio ad una serie di iniziative incentrate proprio sulla necessità di aprire le porte al dibattito elettorale. Ci sarà tempo dunque per meditare e consentire ai partiti di riorganizzarsi. Certo, non si può far finta di nulla perché il confronto dovrà gioco forza a tenere conto del percorso città unica che ha subito negli ultimi giorni una decisa accelerata. Tornando alle decisioni adottate da Piantedosi, non possiamo non evidenziare il colpo di scure inferto all'asco di Vibo che passa di mano affidata ai commissari per i prossimi 18 mesi. Un'azienda fibrillante che, specie nell'ultimo periodo, ma già lo era in passato, ha fatto parlare di sé. L'ultima notizia in ordine di tempo ha riguardato un funzionario destinatario di un plico contenente tre proiettili, una pesante intimidazione che non poteva non essere presa in considerazione anche dal tavolo ministeriale. Parliamo di occupazione. Nonostante il trend positivo che si registra a livello nazionale, in Calabria i numeri sono ancora bassi. L'occupazione, ovvero garantire posti di lavoro, rappresenta una mission fondamentale per ogni esperienza di governo, sia centrale che periferico. In questi giorni è nato nel Paese un dibattito molto acceso sui dati relativi ai nuovi occupati, cifre, numeri, proiezioni grafici, a descrivere che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo. A livello nazionale è così, i dati sono in crescita, ma qual è la situazione della nostra regione, la peggio messa per quanto riguarda l'occupazione? La Calabria ha risentito del trend positivo pubblicizzato dalla Presidente Meloni oppure no? Il miglior modo per scoprirlo è quello di affidarsi alle esperienze e alla conoscenza di chi quotidianamente segue l'andamento dei flussi, sia l'entrata che in uscita, essendo a capo dell'Istituto, l'Inps, depositario di tutto ciò che si muove all'interno del mondo del lavoro. In dubbio che la Calabria ancora, da questo punto di vista, è deficitaria, si deve trovare il modo di innalzare il livello degli occupati nella nostra regione, a dispetto dei dati nazionali che negli ultimi tempi descrivono una ripresa nel mondo del lavoro, dell'occupazione, dell'occupazione stabile. In Calabria purtroppo ancora non è così evidente come altrove nel resto del Paese. Occorre tener conto delle politiche del lavoro proposte dal Governo regionale. Non sarà sfuggito che in questi mesi sia assistito alla promozione di numerosi bandi, incentivi e iniziative rivolte ai giovani. Tutta questa produzione ha sortito gli effetti sperati? Devo dire che per il rapporto pressoché quotidiano che abbiamo con il livello regionale, alcune iniziative mi sembrano iniziative di rilievo e potrebbero dare, quasi certamente daranno risultati significativi anche da questo punto di vista. confidiamo nel prosiego e nel buon andamento di queste iniziative. A Catanzaro adesso per parlare dei percorsi di educazione finanziaria promossi dalla Banca d'Italia. Percorsi di educazione finanziaria per tutti, non solo per gli studenti ma anche per gli adulti. E questa è l'iniziativa di Banca d'Italia nell'ambito del programma di attività di alfabetizzazione finanziaria per il 2024-2025 in Calabria presentato a Catanzaro. Le principali novità quest'anno è l'accento dedicato alla collaborazione anche con enti esterni come Camera di Commercio e Soroptimist in un'ottica di sviluppo delle conoscenze e delle competenze finanziarie che non vuole essere rivolto soltanto agli studenti ma anche agli adulti vista l'esigenza di coinvolgere anche la popolazione in età impegnata nei processi lavorativi, impegnata nel processo produttivo come necessità che è ricorrente per avere un rapporto con le banche più equilibrato e più corretto. Il Soroptimist è in collaborazione con la Banca d'Italia già dal 2020 e noi portiamo avanti queste tematiche attraverso dei corsi di formazione che facciamo insieme alla banca sulle varie tematiche che possono essere le truffe online, la prevenzione al sovraindebitamento, possono essere la gestione dei redditi Noi abbiamo una campagna che si chiama Orange the World che partirà il 25 novembre che è la giornata internazionale per la violenza, sulla violenza e si protrarrà fino al 10 dicembre che è la giornata internazionale per i diritti umani In questi giorni ci siamo più volte occupati della grave carenza idrica lamentata dagli agricoltori e dai cittadini di Isola Caporizzuto. Ebbene, oggi il Consorzio di Bonifica denuncia l'atto di vandalismo consumato a Rocco a Bernarda dove i gnoti hanno manomesso la vasca Cerasara a causa dei danneggiamenti alla valvola installata sulla condotta principale che aumenta il lago Sant'Anna i cittadini di Isola Caporizzuto non avranno acqua si è infatti ridotta l'erogazione creando enormi disservizi per cui si è reso necessario l'intervento straordinario dei tecnici dell'ente Il Consorzio ha immediatamente provveduto a sporgere denunce ai carabinieri dunque sono atti di vandalismo che danneggiano soprattutto i cittadini Si è concluso a Trebisaccio il corso formativo per perforatori frutto di un accordo tra la Scuola Edile di Cosenza e la WeBuild Qui si costruisce un'infrastruttura importante per la Calabria per l'intero mezzogiorno ma anche il futuro di tanti lavoratori che oggi sono impegnati nella Galleria Trebisaccio e Nord un domani certamente in altri cantieri in virtù della loro importante formazione Merito dell'accordo stipulato fra l'ente Scuola Edile di Cosenza e la WeBuild impegnata come noto nell'amodernamento della strada statale 106 Il corso per perforatori a piccolo diametro è giunto così, dopo la fase teorica, a quella squisitamente pratica L'ente Scuola Edile grazie a un accordo con la WeBuild ha costruito questo corso a fronte di fare degli operatori calabresi formarli affinché possano collaborare con la WeBuild e costruire qualcosa di importante per la Calabria Da qui si apre per loro anche un mondo di lavoro sia con la WeBuild che con altre aziende perché è un corso di alta specializzazione Questo corso è stato formato all'epoca tramite un accordo che il precedente Presidente Gianfranco Sposato ha fatto che ringraziamo con la WeBuild ci rende particolarmente orgogliosi perché è un corso molto complesso di 240 ore di prova sul mezzo piuttosto che una parte teorica e poi un esame finale Un bagaglio in termini di formazione che come detto sarà utile ai lavoratori in considerazione dell'alta specializzazione del corso che hanno affrontato decodierità che nel mondo del lavoro può fare decisamente la differenza Abbiamo il compito e il ruolo di formare i dipendenti che ci vengono richiesti dalle aziende non solo dalle grosse aziende come in questo caso ma anche dalle piccole e medie aziende della provincia di Cosenza e oggi si chiude un cerchio rispetto a quello che è stato un percorso impegnativo da parte dell'ente e dei dipendenti perché parlare di qualificazione delle maestranze per noi è importantissimo perché si valorizza non solo l'azienda ma si valorizzano anche gli operai e questo per noi è fondamentale perché siamo sempre alla ricerca di più personale specializzato che ad oggi a me nella nostra provincia è carente Monsignor Claudio Maniago, attuale arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace l'amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Crotone Santa Severina ne ha dato notizia ufficiale questa mattina Monsignor Angelo Panzetta, neo arcivescovo coadiutore di Lecce Monsignor Angelo Raffaele Panzetta e Monsignor Claudio Maniago fanno il loro ingresso nella chiesa dell'Immacolata di Crotone dove è stata convocata la comunità diocesana oggi l'annuncio ufficiale del presule che guiderà la chiesa crotonese quale amministratore apostolico nell'attesa che venga nominato il nuovo vescovo di Crotone Santa Severina in carico conferito dal Papa a Monsignor Maniago dal 2021 arcivescovo di Catanzaro Squillace sono qui per servire, ha detto i vescovi cambiano perché per motivi anche di logica di chiesa esigenze talvolta oppure per età devono essere sostituiti non deve mancare il vescovo, non può esserci una chiesa senza vescovo ma il vescovo viene per servire lo farà adesso l'amministratore apostolico per un tempo che mi auguro breve ma poi soprattutto il nuovo vescovo che per gli anni che gli saranno concessi sarà a servizio di questa comunità Monsignor Panzetta lascia la diocesi di Crotone dopo 4 anni per iniziare un nuovo capitolo del suo ministero episcopale a Lecce come vescovo coauditore due chiese, quella crotonese e catanzarese che si incontrano nuovamente Panzetta infatti fu amministratore apostolico della diocesi di Catanzaro Squillace e accolse Monsignor Maniago quando venne nominato dal Santo Padre Don Claudio è un grande amico se il Papa avesse fatto scegliere me io avrei scelto lui e sono molto felice che sia venuto perché intanto lui è vicino qui ma poi io conosco lo spessore umano, spirituale, il discernimento, la fermezza lui è un pastore navigato, è vescovo da 21 anni e io sono convinto che sia proprio quello che serve qui in questo momento Il consigliere regionale Laghi ha incontrato il prefetto di Cosenza sul tavolo le tariffe imposte dai comuni agli ambulanti Ambulanti costretti a pagare tariffe superiori per l'occupazione del suolo pubblico rispetto a quanto previsto alla normativa nazionale per questo il consigliere regionale di De Magistris Presidente Ferdinando Laghi ha chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano un incontro che lo stesso Laghi ha valutato in maniera decisamente positiva Il livello delle tasse che gli ambulanti pagano per l'occupazione di suolo pubblico è normato a livello nazionale per cui ai comuni spetta il compito di utilizzare questa norma e non modificarla cosa che purtroppo succede in aumento sia in alcuni paesi della Calabria e della provincia di Cosenza per questo ne ho parlato col nuovo prefetto di Cosenza Sua Eccellenza Rosa Maria Padovano che ringrazio della cortesia e della disponibilità dimostratami ma ancor più ringrazio per l'intendimento che mi ha manifestato di voler intervenire per sanare quello che con ogni evidenza è una irregolarità sostanziale oltre che formale La Calabria al Salone del Gusto di Torino i particolari nel servizio La Regione Calabria è presente a Terra Madre, Salone del Gusto l'evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto in scena a Torino fino al 30 di settembre La Calabria è presente con tutti i suoi colori, i suoi profumi, i sapori a Parco d'Ora con uno stand realizzato da Regione Calabria assessorata all'agricoltura con l'animazione di Arsac e Slow Food Calabria Dopo Siracusa a Torino, a Terra Madre, Salone del Gusto che è una manifestazione di Slow Food che quindi premia le nicchie coloro i quali hanno deciso di fare qualità tanta qualità sui territori con produzioni identitarie che vengono spesso riprese da giovani non solo volenterosi e coraggiosi che riescono a replicare culture e produzioni di un tempo che sembra ormai andato Valorizzare un territorio, esprimere un territorio attraverso una produzione agroalimentare che sia caratteristica, che sia peculiare è quello che facciamo quello di stare vicino alle comunità locali che quotidianamente provano a salvaguardare una biodiversità e a non farla estinguere, a fermare quel fenomeno dell'estinzione della biodiversità è quello che ci prefiggiamo di fare e quindi insieme è una missione che riusciamo a compiere sicuramente in maniera più efficace E adesso la storia di un imprenditore cosentino che nonostante le difficoltà del settore ha deciso di investire sul territorio e rilanciare Non è raro vedere a Cosenza stare cinesche di negozi anche storici abbassate La crisi sta tagliando le gambe e i negozianti non riescono più a stare al passo con ricadute significative che impattano sull'economia cittadina e sull'occupazione In questo contesto, tra i residenti che continuano, nonostante tutto e tutti ad aprire ogni giorno le loro attività e ad accogliere i clienti si inseriscono imprenditori cosentini che vanno contro tendenza investendo nella città come Franco Malizia Siamo al piano terra di uno stabile di via 24 Maggio Qui adesso, dove c'erano prima locali chiusi e polverosi da tempo sorge il nuovo negozio di abbigliamento dell'azienda Malizia il diciottesimo di questa impresa familiare che ha inaugurato il nuovo punto vendita nel centro di Cosenza A ben vedere, la cosentinità è il fil rouge che unisce i reparti dalle merci esposte ai camerini e alle casse con fotografie della città che sono un regalo della memoria In questi locali dove io ci passavo da bambino e dove mi ricordo c'era l'agenzia 1 della cassa di risparmio abbiamo realizzato questa bella attività A parte i ricordi, insomma, abbiamo pure acceso le luci in una zona importante della città che lo meritava tutto, a dire il vero un posto che forse è stato, come possiamo dire, sottovalutato e noi ci abbiamo creduto e quindi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e siamo contenti per questo Quindi anche c'è pure un po' di emozione perché, ripeto io sono cosentino e quindi è una bella cosa nel centro della città, aprire un negozio per noi forse il più importante che abbiamo A sostegno della valenza del progetto che sfida il cangiante mondo del commercio il primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso Una realtà imprenditoriale come quella di Franco Malizia nella città, credo che dia anche, come dire l'immagine di una città che cresce anche dal punto di vista imprenditoriale e commerciale Vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento consueto con la cartolina Oggi le immagini di Giovanni Curcio ci portano a San Marco Argentano Grazie per l'attenzione e buon proseguimento Previsioni per oggi Nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in montagna bel tempo con cieli quasi sereni In serata sulle coste molte nubi con deboli piogge intermittenti in montagna nubi e schierite con possibili piovaschi Grazie a tutti Grazie a tutti.